Accanto a me il consigliere Mauro, è stato molto forte l'intervento in aula, alla fine l'atto è passato, ma qual è il suo punto di vista a proposito? Intanto bisogna chiarire la natura dell'atto, la Corte dei Conti ha criticato e ha censurato l'amministrazione comunale per una serie di inadempienze che sono sorte nei vari bilanci, sia nei rendiconti che nei bilanci preventivi e ha chiesto all'amministrazione di porre in essere dei correttivi. L'amministrazione con una delibera che ha portato in Consiglio comunale sostiene di aver posto dei correttivi, ma soprattutto si riserva di intervenire successivamente. Io ritengo che invece le criticità che ha sollevato la Corte dei Conti rimangono tutte, per esempio ne cito alcune, sulle entrate e quindi sulla possibilità di accertare l'evasione e la riscossione. L'amministrazione è assolutamente reticente, perché ho sollevato una vicenda gravissima che c'è in questo comune, dove ci sono per esempio, a proposito di entrate, ci sono circa 3.000-4.000 contatori dell'acqua che non funzionano. Questo in pratica significa che mancano alle casse comunali qualche milione di euro. Allora la mia domanda è, se l'amministrazione fosse stata oculata e attenta, e per esempio il cittadino che ha un consumo di acqua superiore rispetto a chi non lo ha, è giusto che paghi in relazione al consumo dell'acqua? Invece cosa accade? Se il contatore non funziona, quel cittadino, pur se consuma per esempio 10.000 euro di acqua, ne paga sempre 100 euro. Tutto questo comporta un danno alle casse del comune e necessariamente il comune deve trovare risorse. E come le trova il comune? Aumentando le tasse. Io penso invece che se l'amministrazione avesse riparato quei 3.000-4.000 contatori dell'acqua, avrebbe recuperato per esempio 1.000-2.000 euro, non c'era bisogno di aumentare né il limo al massimo né anche la tasse al massimo. È molto semplice. Proprio a proposito di questo, di tassi aumentate, in Consiglio Comunale è emerso che quest'anno la tassa dell'acqua è stata aumentata dopo 15 anni che rimaneva lì la stessa uguale. La tassa dell'acqua è aumentata circa il 60-70%. Dico se tutti pagassero, ovviamente tutto questo avrebbe un'influenza certamente inferiore nelle tasche cittadine. Siccome ci sono, ripeto, da 3.000-4.000 contatori idrici che non funzionano, questi contatori, questi soggetti pagano la quota fissa circa 100 euro. A me risulta invece che ci sono consumi idrici notevolmente superiori e questo è un evidente danno alle casse comunali. E questa amministrazione cosa fa? Non dice nulla e neanche interviene.